Buongiorno amici e ben ritrovati. Oggi impareremo i numeri. Abbiamo già visto i numeri da 1 a 10. Adesso li rivedremo e andiamo anche avanti. Seguitemi attentamente. Vedete, oggi impariamo i numeri. Zero, zero. Uno, uno. Due, due. Tre, tre. Quattro, quattro. Cinque, cinque. Sei, sei. Sette, sette. Otto, otto. Nove, nove. Dieci, dieci. Fino a qua li avevamo già visti. Adesso andiamo avanti. Undici, undici. Dodici, dodici. Tredici, tredici. Quattordici, quattordici. Quindici, quindici. Sedici, sedici. Diciassette, diciassette. Diciotto, diciotto. Diciannove, diciannove, venti. Fino a qui vi do un consiglio. Imparateli molto bene perché sono tutti diversi. Adesso andiamo avanti e vedrete cosa succede. Ventuno, ventuno. Ventuno. Ventidue, 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 ventidue. Ventisei, ventisei, ventisei. Ventisette, ventisette. Ventiotto, ventiotto. Ventiotto. Ventinove, ventinove. Trenta, venti. Trenta, venti. Trentuno, venti. Trentuno, venti. Trentadue, venti. Trenta, venti. Trenta, venti. Trenta, venti. Trenta, venti. Trenta, venti. Quaranta, venti. Quaranta, adesso andiamo più veloci. Quarantotto, quarantotto. Cinquanta. Ora voi avete visto che è dato dalla decina, ad esempio cinquanta più uno, cinquanta uno, cinquantadue. Settantadue, sessanta, sessanta. Sarà poi sessanta uno, sessantadue, sessantatré. Settanta, settanta. Ottanta, ottanta. Novanta. Sarà poi novantuno, novantadue, novantatré, novantatré, novantaquattro, novantacinque. Cento, cento uno, centodue, centotre, centodieci, cento venti, centotrenta, duecento, duecento uno, duecentocinque, duecentodieci, duecentocinquanta. Trecento, trecento. Quattrocento, quattrocento. Cinquecento. Sono ripetitivi i numeri, come in inglese. Mille, 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 mille tre mila, tre mila, dieci mila, dieci mila, venti mila, venti mila, trenta mila, trenta mila, un milione, un milione, due milioni, due milioni, un miliardo, un miliardo. Adesso facciamo qualche esempio. 1492, 1501, 1992, un milione, due cento, quarantacinque, mila, cinquecento. Ora abbiamo visto i numeri. Più avanti, nelle prossime lezioni, we will, I will show you how to make euro. Ok? Questi sono numeri, non sono euro, sono numeri di matematica. Vedremo gli euro più avanti. Per il momento è tutto. Se avete problemi, fermate, tornate indietro e ci vediamo alla prossima. Ciao amici.